Vado Vai Video Cosa ci mostro Faccio mostrare al pubblico I... Zombie Guarda via Zombie di Kung Fu Panda Quali personi sono rappresentati? Se fandom Se fandom Do you remember? Do you remember? Do you remember? Tell me What do you think? I'm John I'm John I'm John I'm John I'm John Jake Minion Mantide, libera e giga. Buona pensare. Minta. Buona pensare. No, non sono i zombie. Sono animatronics. I... I phantom. I zombie. Questi zombie di phantom. Sono simili o sono diversi? Sono diversi. E questi sono tutti assa. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Ragazzi, la chiavette ce l'ha capito? Mi vorrei dire che non mi stai passando. Sono tutti. Perfettissie, perfettissie. Va bene, si lascia stare. Ma che hai fatto? Guarda che bello Mario, questo è bello. Perfettura per lo telefonino, voi lo puoi spostare? I zombie vanno a pensare a? Va bene, lo puoi salvare con noi. Dice tu. Ah, ah, ah. Fatto. I zombie vanno a ricordare. Fate il Neutronix. Ma questo è un ragazzo. Credi che sia così? Sì. Ma va bene, hai fatto un buon lavoro. Gli volessi aggiungere l'ips? E senza disegnargli? No niente, tu lo devi disegnare, figurati io. Tu sai disegnare? No niente. No. Disegnarli lo faccio io. Fai tu, fai tu. Ti voglio vedere. Quindi? Sì. O? Devi scegliere il formato. Scegliere il formato. Allora, perché interessa? Questo era un blog per gli anni. Questa è la pagina. Ti dico, i zombie Giada, mi ricordano il Phantom e il Matronix. NemKatone... A meglio scegliere il爲ibile. E devo tundere i giorni. Ch starciightı lì. Scusi lì... Scusi lì... Grazie.